Manifestazione e sciopero in questo venerdì 17 novembre, quali sono i motivi dello sciopero che hanno portato alla piazza oggi? I motivi dello sciopero sono la legge di stabilità, la legge di bilancio che è emanato il governo che non ci piace, è lontana da quelli che sono i desiderata delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati perché colpiscono ancora una volta chi tutti i giorni è sul lavoro, chi tutti i giorni combatte con le difficoltà di andare avanti, di portare avanti il bilancio familiare e noi crediamo che sia giunto il momento di dire basta, di dire basta al fatto che c'è bisogno di una riforma pensionistica che sia degna di questo nome, c'è bisogno di detassare gli aumenti contrattuali, c'è bisogno di investire in sicurezza perché non possiamo accettare incidenti mortali tutti i giorni sui posti di lavoro, c'è bisogno di mettere mano al precariato perché questi giovani dobbiamo dargli un futuro e noi glielo possiamo dare con questa legge di bilancio.